Dai, teni su le mani. Destro e gancio, calcio basso, doppiato con calcio alto. Stai su Manuel. Dai ora, destro e gancio. Attenuti, prendo il tempo, attenuti. Finita frontale. No, devi stare dritto, non devi cadere. Vai ora Massimo, vai ora, destro e gancio, vai. Non andare ancora indietro, non c'è più spazio indietro, devi andare avanti. Come punto? Vai subito, destro e gancio. Non aspettare Massimo. Non aspettare, destro e gancio, non aspettare. Destro e gancio, faccio basso. Dai Massimo, anche se non entro in Pugli. Massimo, teni su le mani. Yes, ok. Manuel, prendi l'acqua e vieni. Massimo, stai scordendo un solo tempo. Massimo, Massimo, destro e gancio anche a vuoto e calcio. Destro e gancio, se non è che non importa. Tira i colpi Massimo. Non arriva, non devi arrivare alla distanza. Tira i mi destro e gancio le tue, anche se non arriva in Pugli. Ok, parti ora, immediatamente. Uno, due e tre. Oh, col dico, riprovalo. Blizzalo in volo, veloce. Blizzalo in volo, veloce. Non fare le finte che lo vede. E calcio. Ok, e poi come va indietro di calcio. Dai. Dai, doppia il calcio. Doppia e doppia. Doppia e doppia. Coppiti la faccia. Solleva le spalle. Calcia subito. Quando lo spingi, calcio. Massimo, doppia e doppia. Doppia e doppia, veloce. Veloce, doppia e doppia. L'altro. Non puoi andare in lato. Esatte. L'altro. Dai, fiamandri indietro. Vai avanti con le braccia. Vai avanti con la box. 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 Sta prendendo il tempo di partire. Lo vedi? Parti prima tu. Che fai? Non riempi. Guarda che sei all'angolo. Anticipa. No, non c'è forza in quel calcio. Non era deciso. Massimo. Ascolta. Se non attacchi ti ammanza. Ok? Attacca con le braccia. Ok? Manca un minuto. Dai tutto. Adesso. Dai tutto. Svegliati. Ok? Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Stai non indietro. Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Lavora di box. Lavora di box. Lavora di box, Massimo. Massimo, lavora di box. Adesso. Quanto manca? Dai Massimo, lavora di braccio, forza E le gambe le metti dopo, alla corta distanza Questa è la sua distanza Entrerà sempre lui a questa distanza Hai capito? Devi accorciare Devi accorciare Massimo Devi rispondere ogni colpo Se non ti continua a picchiare Ma ci vuole molto arrivare di bocca Intanto le mani basse Ci vuole molto tirare un paio di pugni Ci vuole molto tirare sinistra Ma dai, che ci vuole? Forza Forza Sei le corde, vai avanti Vai avanti, prendi la distanza Non andare col calcio, diventare di bocca Devi andare di braccia Quella è l'essenza sua di gambe O lo tiri forte, no Quello non è un calcio Quello non è un calcio Non c'è niente, quello non è un calcio Con quella di indietro, così Rientra, rientra, rientra Stretti, stretti Ginocchia, ginocchia Ginocchia, ginocchia Quella mano sinistra Che cazzo fa di penzoloni? Non lavora Lavora col calcio destro Uno Massimo, un minuto Che fai? Non lavori Vai avanti con le braccia Vai avanti con il piede Cammini in avanti Cammini in avanti Chiudi la distanza Cammini in avanti Manca 50 secondi Massimo Lavora di bocca Hai solo la box Massimo, devi portare da casa Lavora con le braccia Porta, 40 secondi Lavora Con 20 secondi senza far niente Lavora Sei 30 secondi senza far niente Lavora 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 e gambe E gambe Braccia e gambe finale Torso, 20 secondi Massimo Non fai nulla 20 secondi Lavora Porta quanto finito a casa Di braccia Sei di latro Non ce la fai Di braccia Destro e gancio E poi calcio